Torino, un uomo dopo essere stato investito da un tram della linea 16, in corso e in Audi, in prossimità dell'incrocio con corso Reumberto è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale CTO di Torino. Secondo una prima ricostruzione, è scivolato mentre camminava su una iuola ed è rimasto incastrato tra il mezzo e il marciapiede. È stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in ambulanza. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia municipale. Grazie.